Qui va sotto, va qui sotto, qui, colpisce qui, apre la parte, e va a parte, nell'ultima fa uno, due, tre, quattro, quando la sciacola arriva qui, scosta l'asso, poi torna qui, qui difende, qui alia, qui gira, difende, poi si abre, in perno, poi quando arriva al centro, si abre, in perno, poi quando arriva qui, va dietro, schietto, va avanti,